Sono Giulia Dari, sono toscana e vivo in Toscana, dove attualmente sto lavorando, ma ho vissuto per molti anni a Bologna. Io ho frequentato inizialmente il liceo artistico, successivamente l'Accademia di Belle Arti di Bologna, dove poi ho conseguito il diploma specialistico in fotografia. Ho lavorato alla Cineteca di Bologna, dove mi occupavo di restauro. Questa è stata un'esperienza importante sia dal punto di vista professionale e anche, se vogliamo, artistico. Poi c'è stato il tirocinio alla Galleria Continua, nella sede di San Gimignano. Anche questa è stata un'esperienza fantastica, che poi mi ha permesso di andare a Cuba, nella loro sede dell'Havana, proprio un anno fa. Il tema principale delle mie opere, tutto gira intorno al tema dell'identità. L'identità che può essere l'identità di un luogo, come può essere l'identità di individui, poi presi singolarmente. Tutti questi soggetti sono quasi sempre connessi al proprio ambiente, non solo geografico, ma all'ambiente sociale e culturale di appartenenza. Lavoro con la macchina fotografica, quindi con la fotografia, ma non solo. Anche con immagini d'archivio, immagini dei vecchi album di famiglia, quindi immagini magari non mie. E soprattutto utilizzo software di manipolazione digitale. Il mio obiettivo è quello di suscitare qualcosa nello spettatore, cioè negli occhi di chi guarda. Vorrei che lo spettatore potesse andare al di là di ciò che vede e interrogarsi sul significato delle immagini che ha di fronte. In questo modo si va a creare un'immagine secondaria, magari diversa da quella di partenza. Parlando delle opere che sono state acquisite dalla regione, sono tre opere diverse che appartengono a tre progetti diversi. War è sicuramente il primo progetto. War fa riferimento a una guerra, ma in questo caso è più una guerra mediatica. La ricerca è nata dalle immagini divulgate dai media delle guerre, non solo di guerra, ma anche di sofferenza. Sono tantissime. Noi abbiamo accesso in maniera anche molto facile a un certo dolore che non ci riguarda e che ci fa abituare. E non so, siamo talmente abituati che passiamo oltre. Qua ho creato dei veri e propri fotomontaggi, perché andare a guardare queste foto mi faceva pensare che questi individui fossero stati un po' stereotipati, cioè appartenessero comunque alla categoria di stereotipi. Gebersgrieck, che dal titolo in tedesco significa guardare montagna, Io ed altri partecipanti ci trovavamo là e siamo andati ad esplorare le valli, la Val Genova, la Damello, esplorare con la macchina fotografica inizialmente. Quindi sono andata a spulciare le immagini di archivio e le immagini di guerra, però il riferimento alle valli dove io ero stata a fare delle foto. E qua ho creato dei fotomontaggi. Fotomontaggi quindi tra la foto d'archivio, quindi la foto della guerra, e la foto del luogo oggi. Il terzo ed ultimo progetto mi trovavo a Lavana, grazie all'opportunità che mi fu data dalla Galleria Continua. Allora il titolo, Entremasoni Basarate, è l'indirizzo della casa dove io vivevo. E nasce tutto da un disagio. Quando mi trovavo a Lavana, mi ricordo, uscendo di casa, spesso sconosciuti mi fermavano e mi dicevano ma si vede de donde eres, cioè di dove sei? E io dicevo perché è così evidente che non sono di qua. Quindi mi sentivo realmente un po' a disagio, perché mi sentivo diversa. Quindi diversa, diversa perché diversa detenia. Quindi che cosa ho fatto? Mi sono aiutata, cioè volevo esprimere questo concetto con la fotografia. Mi sono aiutata con la macchina fotografica. Questo è l'unico progetto dove non ho utilizzato nessun software di manipolazione. Quindi sono proprio andata nei miei luoghi, in quel momento erano i miei luoghi di tutti i giorni. Quindi dalla signora sotto casa che la mattina mi vendeva la verdura, il panettiere in fondo alla via. Le persone che conoscevo e che vedevo tutti i giorni e ne ho imitato le vesti, le pose, anche gli stati d'animo del momento. Mi sono affiancata a loro e mi sono fotografata nella scena. In una realtà che non mi appartiene, ma in quel momento mi apparteneva. Entremasoni Basarate è una voglia di integrazione che va al di là delle barriere identitarie, sociali e culturali. Cioè è la mia voglia di integrarmi in un contesto totalmente diverso dal mio, ma che per un periodo della mia vita comunque ne ha fatto parte. Questi ritratti sono site specific e sono performativi. Ora per quanto riguarda progetti futuri, c'è una mostra interessante, una mostra collettiva che si svolgerà alle Murate, che è al centro comunque d'arte contemporanea di Firenze, dove ho lavorato sul, anche lì creando comunque delle sovrapposizioni, dove si sovrappongono tempo e spazio in questo progetto, sul fiume Arno, sull'alluvione, però fuori dalla città di Firenze, ma il comune di Pontassieve.